...quanti estimatori a Defrel. Si parlava di difensori, prima ennesimo innesto per rinforzare il pacchetto arretrato per il Carpi che dopo Bubnic dall'Udinese ottiene anche il sì e la firma di Spolli che ha giocato tanti anni in Italia con la maglia del Catania, l'anno scorso si è diviso tra Serie B con gli Etnei la prima parte, la seconda parte di stagione a Roma dove però il campo lo ha visto poco e un innesto di qualità e di esperienza per il Carpi.